certo di oggi fa un caldo esagerato proprio mamma mia non ce la faccio più ragazze ragazze ieri sono stata a mangiare da dio in un posto bellissimo si dove? da ciccillo a mare ah da ciccillo a mare è un bel ristorante sai però ci vogliono sei mesi di prenotazione per andare a mangiare la non è vero io ieri sono andata ho mangiato senza prenotazione e come hai fatto? mi sono alzato in bietti sono andato in mezzo ai tavoli c'è una folla così si ho fatto fin di fare una telefonata pronto pronto vieni subito lei sta con un altro immediatamente si sono liberato sei tavoli pure il culo che è scappato via